La prima mondiale del nuovo tour dei Gen Rosso sarà a Napoli sabato 28 e domenica 29 marzo al Teatro Mediterraneo. Sarà messo in scena nel teatro della mostra d'oltremare il musical Campus, un messaggio di multiculturalità, rispetto reciproco e dialogo che il Gen Rosso lancerà con questo nuovo progetto culturale. Il Campus è praticamente un terreno in cui si incontrano varie culture, sono studenti di varie provenienze e Napoli mi pare che abbia questo carattere dell'accoglienza, dell'altro, del diverso. Proprio per costruire insieme una società migliore ci vuole il contributo di tutti e ognuno ha una ricchezza, la diversità non è fonte di scontro ma di incontro. Per questo vediamo in Napoli anche un simbolo di Campus. Le storie di nove studenti che si incontrano e si scontrano con la realtà multiculturale del mondo moderno. Il musical si compone di 23 brani e di passaggi coreografici che interagiscono con sequenze filmate, azioni teatrali e movimenti. Sì, davvero questo è un gruppo che nella costruzione di questo evento mette insieme una dimensione davvero universale. dove sono protagonisti, autori, musicisti, scenografi, registi, produttori veramente di ogni parte, di ogni continente. Quindi vive davvero un'idea di universalità intorno all'arte e di fare dell'arte un grande luogo del dialogo. E noi siamo molto felici di ospitare questa prima mondiale perché noi lavoriamo sempre per far risaltare il ruolo di Napoli come città di pace, in particolare in queste ore, in questi giorni, in queste stagioni di violenza, di sopraffazione, di fondamentalismi, di terrorismo, di orrori. Senza più fofia, il mondo in armonia, senza più rancore.